benvenuti in questo video vedremo come cancellare un elemento da un video con filmora quindi seguite fino alla fine da ora in avanti ogni settimana selezioneremo un fortunato vincitore che riceverà gratuitamente una licenza di filmora devi solo iscriverti al canale fare like e commentare il nostro ultimo video pubblicato inoltre quando raggiungeremo i 30.000 follower selezioneremo 30 persone che avranno gratuitamente la licenza di filmora può succedere di effettuare delle riprese e trovare in scena qualcosa che non dovrebbe essere all'interno dell'immagine come possiamo fare per eliminare quell'elemento dipende molto dal tipo di ripresa che abbiamo a disposizione ad esempio se è una ripresa fissa oppure se una ripresa su cavalletto ad esempio se è una ripresa fissa oppure se è una ripresa su cavalletto o ancora se l'oggetto che dobbiamo cancellare è statico oppure si muove a seconda di questi parametri è possibile effettuare una cancellazione più o meno velocemente vediamo come fare con un paio di esempi inseriamo il video all'interno della nostra timeline in questo caso si tratta di un video in slow motion è ripreso a mano ma è abbastanza stabile ipotizziamo di voler eliminare questo gruppo di persone che si trova sulla spiaggia in questo caso possiamo farlo facilmente perché il tipo di immagine si presta a quest'operazione non è detto che per forza questa cosa funzioni con tutti i tipi di ripresa qui abbiamo il vantaggio di avere un'area vuota quella della spiaggia attorno al soggetto da cancellare e questo lo possiamo usare proprio per andare a coprire questa parte di immagine inoltre l'oggetto è libero quindi non ci sono elementi che ci passano davanti e che possono rendere questa operazione più complicata una volta che abbiamo la nostra ripresa la prima cosa da fare è duplicarla e piazzare la duplicazione su una traccia sovrastante queste due immagini ci serviranno proprio per creare la patch quindi la copertura per prima cosa clicchiamo sul video che si trova sulla traccia superiore e andiamo a creare una maschera quindi andiamo in video maschera e selezioniamo la forma che più si presta per la cancellazione che dobbiamo fare nel mio caso posso usare direttamente una forma a cerchio la maschera ora non la vediamo perché abbiamo una duplicazione quindi anche se una parte di immagine viene cancellata noi non la vediamo perché abbiamo due volte la stessa immagine una sopra l'altra quindi andiamo a disattivare momentaneamente la traccia sottostante in questo modo possiamo vedere la maschera e noi dobbiamo andare a coprire senza sforare troppo ma dandoci un pochino di bordo che ci serve per lavorare meglio poi possiamo fare un'altra cosa cioè aggiungere della sfumatura alla maschera perché altrimenti si vedrebbe lo stacco della cancellazione quindi andiamo nelle impostazioni della maschera cerchiamo di sfocarlo il più possibile ovviamente senza esagerare perché altrimenti andiamo a mostrare troppa porzione di video proviamo in questo modo poi possiamo ovviamente sempre modificare qualora non andasse subito bene la nostra selezione perfetto a questo punto andiamo su inverti maschera per creare un buco per così dire sull'immagine che dobbiamo lavorare vedete che qua ci accorgiamo che la maschera va un pochettino allungata e per ora potrebbe andare bene così possiamo che controllare il movimento ecco quello che noi dobbiamo fare è fare in modo che la maschera copra sempre e comunque indipendentemente dal movimento la porzione di video che ci serve quindi quello che potremmo fare è fin da subito animare la nostra maschera per farlo ci basta andare nelle impostazioni della maschera visto che noi dobbiamo modificare sia il percorso ma magari anche un po le proporzioni o la scala ci conviene selezionare direttamente tutti i keyframe in questo modo e iniziamo a lavorarla quindi allarghiamola leggermente perché abbiamo visto che ci serve una scala leggermente più grande e cambiamo anche la posizione perfetto adesso andiamo nel frame successivo come ad esempio questo piazziamo un keyframe in modo da poi fare l'animazione che ci porta a seguire il nostro soggetto ancora un keyframe dovrebbe bastare per coprire la porzione che ci serve perfetto a questo punto in realtà abbiamo quasi finito nel senso che adesso possiamo riattivare la traccia sottostante che chiaramente ci mostrerà l'immagine originale e per sicurezza visto che dobbiamo lavorare questa immagine possiamo anche bloccare la traccia sovrastante in modo da non modificare per sbaglio l'altro video a questo punto andiamo nelle impostazioni video di base e semplicemente dobbiamo spostare l'immagine e anche scalarla per creare la patch quindi per come possiamo dire riempire questo spazio vedete che non ci basta spostare l'immagine perché altrimenti spuntano degli altri elementi che non vogliamo avere allora se questo succede ci basterà scalare leggermente l'immagine per sicurezza la scaliamo ancora un po in modo da essere assolutamente sicuri ed ecco che la cancellazione è avvenuta correttamente chiaramente andando in play e avendo animato noi la maschera non avremo problemi perché sarà sempre comunque coperto dalla porzione di immagine che abbiamo scelto ovviamente se l'immagine è su cavalletto è ancora meglio perché non c'è bisogno neanche di animare la maschera viceversa ci sono dei casi in cui la cancellazione è un pochettino più complicata con lo stesso ragionamento possiamo fare un secondo esempio prendiamo per esempio questa scena questa scena c'è molto movimento immaginiamo di voler eliminare il gabbiano questo ci permette di vedere un caso differente prendiamo la parte centrale dell'immagine facciamo come prima quindi duplichiamo sovrapponiamo togliamo momentaneamente la traccia sottostante disattivandola andiamo in maschera questo caso potrei usare anche una maschera differente comunque proviamo di nuovo con la maschera a cerchio teniamo conto anche del movimento sfocchiamo possiamo farlo anche direttamente dalla preview tirando diciamo questa maniglia che ci permette di regolare proprio la nostra sfocatura qua lasciamo un po più largo tanto abbiamo molta porzione di immagine da poter usare essendo che stiamo riprendendo il cielo anche qui andiamo a invertire la maschera e come prima ovviamente dobbiamo animarla qui dovremmo fare qualche keyframe in più perché l'oggetto si muove molto rapidamente qui probabilmente avremo anche bisogno di allargare leggermente la maschera perché comunque cambia la prospettiva quindi anche la porzione di soggetto visibile è diversa e a questo punto di nuovo andiamo a riattivare la traccia sottostante andiamo nelle impostazioni video di base e vediamo un po cosa possiamo fare per coprire da questo punto di vista dobbiamo stare attenti qui essendo che si tratta di un cielo alla sfumatura perché è vero che possiamo cancellare facilmente spostandoci ma è anche vero che il cielo ha diverse sfumature quindi potrebbe vedersi come una specie di macchia e quindi dobbiamo un attimo capire qual è per noi la soluzione migliore possiamo anche spostarci in verticale magari zoomare anche in questo caso un po di più ricordiamoci sempre di bloccare il layer sopra perché altrimenti rischiamo di modificare l'immagine sbagliata in questo caso il soggetto si muove all'interno del nostro frame vedete che in questo caso dobbiamo animare anche in realtà l'immagine sottostante quindi attiviamo i keyframe nelle impostazioni di base e partendo da qui dove il video funziona noi dobbiamo in verità andare poi a modificare leggermente quello che abbiamo fatto tra l'altro notiamo che la maschera qui va rifinita ma possiamo farlo in un secondo momento senza problemi andiamo a rifinire la maschera nel punto in cui abbiamo notato che doveva essere ritoccata ed ecco che abbiamo effettuato la cancellazione se in alcuni punti doveste notare una differenza ovviamente di luminosità un'altra cosa che potete fare è andare a correggerla tramite la color correction quindi cliccando nelle impostazioni di colore è possibile cambiare luminosità vedete che a questo punto non si vede più e potete andare a eliminare anche questo tipo di errore come in questo caso essendo che cambia nel tempo potete anche qui animare proprio la luminosità e questo ci permette di togliere del tutto l'effetto diciamo di copertura e avere quindi una cancellazione adeguata abbiamo quindi visto come effettuare la cancellazione di un soggetto oppure di un oggetto all'interno di una scena come al solito fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti